Grazie per essere così numerosi e soprattutto ringrazio Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, di essere qui con noi e di nominanzo per essere moderatore di questa serata. La serata di questa sera l'abbiamo fortemente voluta proprio perché crediamo moltissimo nel dover dare un messaggio culturale ai giovani imprenditori e ai giovani in generale, ci tendiamo a riscoprire le nostre origini e ritornare a credere nel futuro. Per cui penso che Aldo Cazzullo possa essere veramente la persona migliore perché con i suoi ultimi libri ci ha dato tantissimi messaggi di fiducia e di ottimismo. Per cui lascio la parola al relatore. Eccoci allora una breve introduzione per poi presentare il libro nei suoi aspetti come dire salienti, peculiari. Questo è sostanzialmente un saggio come dire generazionale e questo personalmente l'autore è del 66, io sono del 64 quindi siamo in quella fascia lì. C'è un po' di malinconia perché è arrivato il momento in cui si inizia a fare il saggio generazionale. Quindi quando eri collaboratore, giovane redattore, vedevi gli altri che raccontavano, adesso siamo arrivati al punto iniziamo a metterci in pista per fare noi i racconti generazionali. Perché a quel punto il percorso della memoria inizia ad allungarsi molto, come dicevo quello là, quello della speranza si accorcia, però invece è un libro sulla speranza. Sulla speranza e soprattutto sulla voglia di fare, di non rassegnarsi, di non piangersi addosso. Entriamo subito nel tema, il tema principale è nel titolo. L'autore sostiene che non siamo mai stati bene come adesso sostanzialmente, ci sono state diverse etaglie che stavano molto peggio, ma all'interno di quelle etaglie lì c'era stata comunque la forza, la capacità, l'orgoglio, la cultura, la cattiveria, la fame e quello che volete voi per reagire a crisi difficili tanto quanto, forse anche più di questa e uscirne senza appunto lamentarsi, senza dare spazio al solito topos nazionale che non è mai colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, c'è sempre il grande complotto contro di me che è la partenza per poi fallire nei propri obiettivi. Prima cosa è l'acquisizione della propria identità e superamento dei problemi grazie a se stesso e non lamentandosi di quello che succede, che fanno gli altri. Quindi prima domanda proprio molto semplice ma come dire di partenza, la tesi principale e centrale del libro è il motivo per cui poi hai deciso di scriverlo. Intanto io ringrazio il giovane industriale di Como per l'invito e tutti quanti voi per essere venuti così numerosi, grazie a Marco per la sua introduzione. Diego penso che tu abbia centrato il nucleo del libro, io magari mi prendo un tempo per rispondere un po' più ampio alla tua introduzione e poi magari facciamo invece un dialogo serrato, prometto risposte brevi e insomma mi piacerebbe sentire anche gli interventi del pubblico. Sì, basta piangere non è un grido polemico, è una frase d'amore. È la frase che mi rivolgeva mia mamma quando da bambino mi vedeva abbattuto, sfiduciato, senza speranza. E oggi l'Italia è così, è abbattuta, sfiduciata, senza speranza. In particolare lo sono i ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti, per questo che mi sento di dire loro basta piangere. Non perché non ci siano motivi di lamentarsi nell'Italia di oggi, ce ne sono moltissimi. Noi italiani facciamo pochi figli e li trattiamo male. Forse li viziamo un po' troppo da piccoli e non li abituiamo, quindi non li prepariamo ad affrontare le difficoltà che incontreranno, che sono molte, non si trova lavoro, è difficile mettere su casa, è difficile mettere su famiglia. Però io non vorrei che i nostri figli pensassero di essere nati nel paese sbagliato, da cui bisogna scappare. Vorrei che fossero consapevoli che sono nati in un paese straordinario, che ha vizi da estirpare, che ha scandale da denunciare, che ha dei mali da cui deve guarire, ma resta un paese che ha un grande potenziale di sviluppo. Perché nel mondo c'è una grande domanda di Italia, il mondo globale considera l'Italia la patria delle cose buone e delle cose belle. E molto spesso questa domanda di Italia è soddisfatta da prodotti che non sono italiani, che suonano italiani, Italian sounding, ma non lo sono. Soltanto di false mozzarella e falsi parmigiani c'è un giro d'affari di 60 miliardi di euro l'anno. Pensate quante Imo, quante IVA ci sono lì dentro. Per tacere di scarpe, tessile, moda, lampade, design, borse. Siamo seduti su uno scrigno pieno d'oro e non lo apriamo. Non siamo all'altezza di noi stessi. Io però sono convinto che quell'energia, quella forza morale che avevano i nostri padri e i nostri nonni, non sia andata dispersa. E così come riconosco nei miei figli i tratti dei nonni e dei bisnonni che ho conosciuto, sono convinto che anche quella forza, quell'energia, quella fiducia nel futuro, in noi stessi, nel nostro paese, non può essere andata dispersa, è ancora nel sangue e sta a noi, ritrovarla in noi stessi e risvegliarla nei nostri figli o nei nostri nipoti. Io non ho vissuto esperienze drammatiche. Nella mia generazione, diciamo quelli nati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70, che oggi hanno quindi tra i 40 e i 50 anni, non abbiamo vissuto la guerra, la fame. Però sapevamo che c'erano state. Non abbiamo ricordi diretti della ricostruzione o del boom. Però abbiamo un po' assorbito l'energia di quegli anni. Io, i miei primi ricordi pubblici, cioè di cosa successe non soltanto a me ma a tutti, non sono ricordi così allegri. Ma il primo ricordo in assoluto è la spugna che vola dall'angolo di Nino Benvenuti nell'incontro con Monzon, che lo sta massacrando, e Benvenuti si arrede. Ed siamo alla fine del 71. Però il ricordo più nitido che ho è il 72, le Olimpiadi di Monaco, l'attacco dei palestinesi al villaggio degli israeliani. Poi mi ricordo la guerra del 73, la guerra arabo-israeliana. E all'inizio stavano vincendo gli arabi, cose che noi, noi avevamo una famiglia anticomunista, filoatlantica, quella cosa ci gettò nel panico. Poi, adesso non l'abbiamo saputo non da molto, ma quando poi Israele rovesciò le sorti del conflitto, e quando la terza armata egiziana fu accerchiata da Sharon nel Sinai, l'Unione Sovietica minacciò l'intervento nucleare e gli americani riuscirono a convincere gli israeliani a ritirarsi. Quindi nel 73 il mondo, 11 anni dopo la crisi di Cuba, andò a un passo dalla guerra nucleare. Non a caso, vi ricordate, era il periodo in cui c'era la grande paura dell'atomica, si faceva rifugio anti-atomico sotto casa. Poi mi ricordo il terrorismo nero, il terrorismo rosso, i sequestri di persona. Il caso Moro fu uno shock per tutti, ma per la piccola borghesia di provincia. fu uno shock non inferiore il sequestro di Cristina Mazzotti. Immagino che qualcuno di voi si ricordi, è stata del 75, questa ragazza di 18 anni fu rapita vicino a Upilio, fu ritrovata dopo tre mesi in una discarica a Gagliate. Pensate che il capo della, forse qualcuno di voi lo sa, ma io non lo sapevo, l'ho scoperto lavorando su per il libro, il capo della banda dei sequestratori fu trovato, grazie all'esame del DNA, una cosa che allora non esisteva, adesso c'è, soltanto nel 2008. Fu individuato, incarcerato, e subito liberato, con tante scuse, perché il reato è prescritto. Cioè, rapimento con omicidio della vittima, di una ragazza di 18 anni, è un reato prescritto. L'Italia è anche questa, purtroppo. Infatti, quando ho letto questa cosa, ho pensato che il padre di Cristina Mazzotti, fosse stato il padre, sarei morto di crepo a cuore. Infatti, il padre di Cristina Mazzotti è morto di crepo a cuore, per fortuna, prima di subire questo onnesimo affronto. L'Italia su cui aprivamo gli occhi non era il pareviso in terra, era un paese più violento di quello di oggi. C'erano le bombe sui treni, c'erano le brigate rosse, era un paese più inquinato, ciminiere in città, acciaieri in riva al mare, nubi tossiche come la diossina a Seveso. Era un paese più maschilista. In molti ambienti sociali si dava per scontato l'idea che la donna dovesse restare a casa. Le ragazze della mia generazione sono state le prime a provare tutte quante a uscire di casa e a lavorare. I femminicidi, come si chiamano adesso, non è che non esistessero, non facevano notizia. Tornavi a casa, trovavi la moglie o con un altro, ammazzavi e non finivi neanche in galera, era delitto d'onore. Non è vero che si stava meglio allora. Io penso che oggi i nostri ragazzi abbiano delle opportunità che non soltanto i nostri nonni, i nostri padri si sognavano, ma che la mia generazione non ho avuto. Noi non avevamo la tv o colori, internet, il computer, i telefonini, i social networks, che non sono soltanto delle cose materiali, sono delle opportunità. Non è mai stato così facile per gli uomini viaggiare, comunicare, imparare, scambiarsi informazioni e anche fare affari. Questa grande domanda d'Italia che c'è nel mondo. E noi possiamo raggiungere la Cina con una mail. Io mi ricordo nel 1976, la morte di Mao. 600 milioni di contadini cinesi poveri che mangiavano riso quando ce n'era, giravano in bicicletta e piangevano alla morte di un dittatore comunista. Oggi in Cina ci sono 600 milioni di cinesi ricchi, avidi dei nostri prodotti. La Spagna non era il paradiso delle vacanze, era una dittatura dove si mettevano al muro gli oppositori. L'India ha la fame, in miseria. Il mondo globale offre delle grandi opportunità. Mi rendo conto che presenta anche un prezzo da pagare. Il mondo globale fa sì che il lavoro venga esportato, là dove costa di meno e c'è meno burocrazia, oppure si importano gli immigrati che non soltanto fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma tra qualche anno. Io penso che troveremo estracomunitari anche negli studi degli avvocati o dei medici, perché non sono ancora sazi, perché hanno più fame dei nostri ragazzi, sono più disposti a sacrificarsi. Quando io vado al sud, in città dove c'è un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 50%, a livelli di striscia di Gaza, l'area più depressa del Mediterraneo, e vado in un'osteria, poi sono curioso, voglio andare a vedere chi c'è in cucina, a Bari, a Napoli, a Palermo, e vedo che le orecchiette o gli spaghetti ricchi di mare o la pizza, spesso lo fanno l'egiziano, il magrebino, il senegalese. E quando ho detto questa cosa la settimana scorsa ad Alba, il mio paese, dove c'è un grande boom turistico, si è alzato la signora e mi ha detto no, io avevo mia figlia che lavorava come cameriere nella trattoria qua vicino, a 1000 euro in nero al mese, lei ha chiesto di essere messa in regola, gli hanno detto che non potevano, lei se n'è andata e hanno preso il suo posto una ragazza albanese che prende 900 euro in nero. Cosa vuoi rispondere? Anche la signora ha ragione. È evidente che è un momento di grande difficoltà, sono crollati i due pilastri su cui fino ai primi anni 90, perché l'Italia non è in crisi dal 2008, in crisi dal 92, sono crollati i due pilastri su cui si regeva il nostro modello di sviluppo. Una moneta debole, la liretta, che incentivava i turisti stranieri a venire in Italia e facilitava le esportazioni e dall'altra parte una spesa pubblica generosa che serviva ai partiti di governo a comprare il consenso e a controbilanciare i finanziamenti sovietici del PC, ma serviva anche a ridistribuire una parte della ricchezza prodotta nelle aree ricche e nelle aree meno ricche. Oggi abbiamo una moneta forse fin troppo forte, perché è la moneta dei tedeschi e la politica monetaria si fa a francoforte, e abbiamo una spesa pubblica sotto controllo. È chiaro che dobbiamo pensare a un altro modello di sviluppo che si regge, secondo me, intanto sulla manifattura. Cerchiamo di salvare la manifattura là dove c'è e vedo che a Como state facendo dei prodigi per salvare il tessile, puntando su gestione, innovazione, ricerca. So che ci sono molte aziende che sono rappresentate qui, magari ne parliamo, che hanno molto da insegnare. Io, ad esempio, ad Alba, purtroppo il gruppo Tessile e Miroglio, che è sempre prosperato, adesso è in grande difficoltà. Bisogna salvare la manifattura e puntare anche sull'agroindustria, sui prodotti di qualità, i prodotti della nostra terra, sull'artigianato, sul turismo, sull'arte, la cultura, la bellezza, l'economia immateriale. E quindi i nostri giovani non è detto che non troveranno più lavoro, lo troveranno là dove serve una tecnica, un sapere, un'esperienza. E quindi dovranno studiare di più, formarsi meglio, ritrovare anche il gusto del lavoro ben fatto, anche del lavoro fatto con le mani. Che era un orgoglio che avevano i nostri padri e i nostri nonni. Mia bisnonna, Tilde, aveva sposato un uomo che non aveva mai visto in vita sua. Perché nelle campagne piemontesi i matrimoni si combinavano, c'era il sensale, che sapeva che dall'altra parte del fiume c'era una famiglia con un po' di terra e con un ragazzo ancora da sposare. Non potevo lamentarmi con mia bisnonna delle mie prime pene d'amore. Nonno Lorenzo, il padre di mio padre, fece la grande guerra, a 18 anni, fu fatto prigioniero e nei campi di prigionia austriaci vide i suoi compagni morire di tifo. Non potevo lamentarmi con lui se facevo il morbillo o gli orecchioni, che adesso i nostri figli per fortuna non sanno cosa siano. Nonno Aldo, di cui porto il nome, a 12 anni andò a fare il garzone, cioè lo schiavo, a casa d'altri. Era il macellaio di Alba, si chiamava Milcare Fenoglio, il papà di Beppe Fenoglio, lo scrittore, per fortuna era una brava persona. Però nonno abitava a Canale, che è a 15 chilometri, non aveva i soldi per la bicicletta e neanche i soldi per l'autobus e non sarebbe mai salito sull'autobus senza biglietto e quindi andava a piedi per 15 chilometri. Non potevo lamentarmi con lui se non mi compravano il motorino. Ecco, io vorrei dire ai nostri ragazzi che non nego le loro difficoltà, ma che le generazioni precedenti ne hanno superate anche di peggiori. Hanno combattuto guerre mondiali, guerre civili, hanno perso i loro fratelli per malattie che adesso curiamo con tre pastiglie di antibiotico. Un altro mio bisnonno morì di otite a 26 anni. Io penso che in ogni famiglia ci siano storie di persone portate via giovanissime dalla spagnola, dalla poliomielite, da malattie che adesso al massimo andiamo a cercarle su Wikipedia. E qui vorrei che i nostri ragazzi fossero consapevoli di questo e anche consapevoli che è l'Italia in cui è cresciuta la nostra generazione, Diego. Marco, tu sei molto più giovane, ma era un'Italia molto più semplice di quella di oggi, anche più povera. Appunto, l'austerity, le domeniche a piedi, la tv in bianco-nero. Poi c'è anche un po' un racconto generazionale che io faccio. Mi sono divertito, ad esempio, di andare a pensare a quali erano gli oggetti della nostra infanzia. Ad esempio, quando le automobili intanto erano quasi tutte italiane, quasi tutte Fiat. E accadeva che si lasciasse il rivestimento interno in plastica delle portiere e si coprissero i sedili con apposite fodere a quadratini bianchi e marroni di pregevole bruttezza. Non erano rari i volanti rivestiti di pelo, i magneti sul cruscotto con immagini di santi, madonne e foto dei figli che invitavano a non correre, inevitabili sulle Sim Camille e sulle Prince, e anche i famigerati cagnolini che ondeggiavano al ritmo della guida. In casa c'erano le pattine, la lucidatrice con tre dischi di feltro, il frigorifero, talora Fiat pure quello, le prime lavastoviglie e i primi rappresentanti del folletto alla porta, respinti con ferma cortesia come anche i venditori di enciclopedie. In casa avevamo già a capire e conoscere. E poi le scatole con i flash Polaroid a forma di cubo, i mini assegni, perché mancavano gli spiccioli per dare il resto, la macchina per il gelato, il telefono duplex, bisognava mettersi d'accordo come una famiglia che telefonasse poco, se no il telefono era sempre occupato, il lucchetto per la rotella del telefono, il contascatti, le pecore nell'intervallo Rai, la madonnina trasparente con l'acqua di Lourdes, il latte nelle confezioni a triangolo, il bigliettaio sull'autobus, a Wanagana i primi DJ delle radio libere, il veget, il negozetto di insalata e frutta, le drogherie con i generi coloniali e le caramelle sotto vetro, le colonie estive, la misteriosa scomparsa della bionda dei ricchi e poveri, la 128 orelli, la pistola con i botti che lasciavano davvero l'odore della polvere da sparo, il club degli editori con il libro del mese, Ruggero Orlando e Sandro Paternostro, i rullini Kodak e le diapositive. Ognuno che faceva un viaggio si sentiva in dovere di invitare gli amici a vedere le diapositive, il viaggio che aveva fatto con grande orgoglio, però nessuno voleva andare a vedere le diapositive degli altri, quindi si creavano anche dei dissapori. Poi alla fine degli anni 70, questa Italia cambiò, cambiò umore, gli anni 70 furono pesanti, furono anni di piombo, gli anni del terrorismo. Io mi ricordo che nella mia famiglia nonno poi aveva comprato una macelleria e aveva conquistato un relativo benessere con dei sacrifici orrendi, che adesso i miei figli non riescono neanche a immaginare. Mi ricordo, le macellerie erano aperte sette giorni su sette ed inverno senza porte, perché doveva entrare l'aria fredda per tenere bella conservata la carne. Mia madre andò a fare la prima comunione a sei anni da sola, perché papà e mamma lavoravano in macelleria. E con questi sacrifici il nonno aveva comprato un bilocale a Loano, un piccolo paesino delle riviere Ligure, dove andavamo a fare le vacanze in cui si faceva esattamente la vita che si faceva in città. Le donne cucinavano tutto il giorno, non si andava a mangiare fuori, e quindi andavamo a mangiare la pizza una volta all'anno, l'ultima sera della vacanza, quando si sbrinava il frigo, poi si metteva il telo bianco sui divani, si toglieva il telo grigio dalla fulvia parcheggiata che stava lì un mese fermo perché tanto non si andava mai da nessuna parte, e andavamo a mangiare la pizza. Io ordinavo sempre due pizze contemporaneamente, e allora il cameriere diceva no ma c'è un errore, c'è una pizza di troppo, allora mia mamma a capocchino diceva no ma il bambino ne mangia due. Non c'è problema, prima una, poi l'altra, ma io avevo paura che mio papà dopo la prima pizza si spazientisse e volesse tornare a casa. Allora mi portavano due pizze contemporaneamente, uno aspettava qua, mangiava prima uno e poi l'altro. Erano gli anni della grande avanzata del partito comunista, 75-76, e i nonni, l'altro nonno era un vignaiolo, erano tutt'altro che comunisti, guardavano i comunisti con paura, cioè Berlinguer era altro che un mito, era un uomo cattivo che veniva a portarci via la roba, la seconda casa. Io invece non potevo più andare in vacanza a Loano, quindi speravo che arrivassero i comunisti a portarci via la seconda casa, poi non è successo. Ecco, la nostra generazione secondo me ha gli strumenti per affrontare la crisi, forse anche per risolverla, perché siamo nati con la crisi, i nostri primi ricordi sono ricordi di crisi. Noi abbiamo anche però degli strumenti, perché abbiamo fatto degli studi seri, il primo giorno di liceo mi diedero come tema da fare in classe materia e spirito, tema anche di asortico, difficile. Mio figlio ha cominciato l'anno scorso il liceo, il primo tema che gli è dato è stato descrivi i tuoi genitori, via di mezzo. Ecco, noi leggevamo i classici, leggevamo Libro Cuore, abbiamo Pianto sugli Appennini Leand, La piccola vedetta Lombarda, leggevamo Salgari, Tremalnaic, Cammamuri, il fedele Maharato, Sandro, Canianez, e poi quando avevo dieci anni leggevamo Pinocchio ovviamente, poi quando avevo dieci anni siccome ero maleducato perché rispondevo, mia mamma mi regalò il Galatteo di Donna Letizia, che era poi Collette Rosselli, la moglie di Montanelli, la quale, ecco per dire la mentalità dell'epoca, c'era un capitolo che si intitolava Se passati i 24 con tre puntini di sospensione, l'idea era che una ragazza che a 24 anni non era ancora sposata era Zitella e quindi doveva essere per forza un mostro ma Donna Letizia aveva la soluzione infatti gli scriveva quest'anno mandatela in vacanza da sola allora non ha un bel viso ma ha un corpo discreto forte dei marmi e bikini ha un viso carino ma non ha un bel corpo ma un bel viso cortina e gonne a campana a ottobre festeggerete il fidanzamento seguiva un capitolo su come organizzare il pranzo di fidanzamento con le risposte a dilemmi tipo avendo a tavola un cardinale e un'altezza reale chi mettere alla destra della padrona di casa ok io dicevo mamma noi non avremmo mai questo problema esattanto se abbiamo degli ospiti sono i colleghi macellai del nonno che mangiano come orchi non è che si pongono il problema dove si siede insomma dai adesso non voglio poi magari ci torniamo su non voglio indulgere nella marcord fatto sta che alla fine degli anni settanta l'italia si modernizza cambia e cambia anche il umore cioè la vittoria del mondiale dell'82 fu un momento in cui l'italia cambiò umore e si è confrontata con la vittoria del mondiale del 2006 il paese ha reagito in modo molto diverso è vero che nell'82 fu una vittoria più mitica battemmo l'argentina di maradona il brasile di zico la germania di rumenig nel 2006 abbiamo vinto grazie ai gol di materazzi ma c'erano cose di più cioè l'italia nel 82 cambiò umore perché la gente si riversò nelle strade si rividero i tricolori si rivide la voglia di uscire la sera di stare insieme di chiudere con gli anni di piombo mentre nel 2006 abbiamo la gioia della vittoria mondiale è stata una fiammata di una notte e siamo di nuovo tornati in questo tono medio che è la depressione cioè l'italia sta aspettando che passi la nottata ma la nottata non passa da sola passa se noi ritroviamo fiducia nel futuro e il capitolo sugli anni 80 io l'ho intitolato l'ultima volta che siamo stati felici non perché io abbia un'idea così meravigliosa degli anni 80 io anzi ero abbastanza in imbarazzo quando si andava in discoteca la tattica con le ragazze era tu puntavi una ragazza ti cominciava a dimenarti davanti a lei se lei cominciava a dimenarsi era fatta se no passavi un'altra ragazza io queste cose non le sapevo fare quindi mi sentivo molto a disagio però riconosco che negli anni 80 l'Italia andava verso il più anziché verso il meno l'inflazione tornava a una cifra le imprese cominciavano a macinare utili insomma fu un momento l'ultimo momento di espansione e un momento in cui apparvero degli oggetti che adesso noi sembrano così un po' patetici ma che allora sembravano una modernità ad esempio i cornetti cuore di panna al posto dei ghiaccioli con il famigerato colorante E123 di cui si scoprì all'improvviso che faceva malissimo le schede telefoniche invece dei gettoni le espadrias al posto degli zatteroni i videogame uno dei primi fu il pacman che mangiava le palline invece dei flipper il subuteo al posto del calciobalilla e poi il frisbee il materassino le superga il super telegattone la calcolatrice l'autoradio estraibile e toto cutugno il windsurf il frullatore il risico il cubo di rubik fonte di crisi isteriche e di manie c'è chi come il muratore inglese Graham Parker l'ha comprato nel 1982 a 19 anni e lo ha risolto nel 2009 a 46 anni dopo 27.400 ore di tentativi ecco l'Italia poi arriva alla fine degli anni 80 alla sua grande occasione Maastricht Tangentopoli che ebbe degli eccessi ma che ci liberò anche di una classe dirigente corrotta questa occasione poi è stata perduta l'Italia appunto è da allora che non cresce cresce poco male meno rispetto ad altri paesi europei ma questo vale anche per tutto il mondo se ci pensate cioè nel 92 sembrava che la storia fosse finita crollato il muro di Berlino crollato l'apartheid in Sudafrica sembrava quasi che gli israeliani palestinesi stessero facendo la pace non è andata così non è andata così anche perché la cosa grave che è accaduto in questi anni secondo me è che c'è stata una separazione tra ricchezza e lavoro le ciminiere in città potevano dare fastidio i reparti di verniciatura le fonderie le acceglie erano posti molto duri ma la ricchezza si produceva nelle fabbriche con le aziende con il lavoro con la fatica ora i soldi si fanno con altri soldi e sembra quasi che il lavoro sia diventato un problema se una grande impresa taglia i dipendenti salirà in borsa ecco questo è qualcosa che credo che sia una cosa inaccettabile cioè noi dobbiamo secondo me ritornare un po' a dare il giusto peso al lavoro che è un bene che oggi è troppo tassato perché è un bene scarso e quindi prezioso io penso che ancora veramente un grande cambiamento ma la prima cosa poi magari parliamo in termini di dettagli e adesso voglio rispondere alle domande di Diego e le vostre ma secondo me la prima cosa da fare è recuperare la fiducia la fiducia in noi stessi nel nostro paese è vero che la crisi italiana è anche una crisi finanziaria perché chi ha i soldi se li tiene le banche magari le prendono a tasso zero della BCE ma poi se uno ha bisogno di un figlio di un mutuo paga molto di più c'è una crisi finanziaria ma c'è soprattutto una crisi di fiducia nessuno paga più nessuno lo Stato non paga i fornitori le grandi imprese non pagano le piccole fateci il caso la giustizia penale non funziona infatti nessuno confessa più anche Olindo e Rosa hanno cercato di ritrattare la confessione credo che occorra proprio invertire questo circolo vizioso di sfiducia e cominciare ad avere un pochettino più di fiducia in noi stessi nel nostro paese guardate che io girando l'Italia trovo molte storie che mi fanno vergognare ma trovo anche molti italiani di cui possiamo essere orgogliosi e sono cose che voi sapete bene io penso ai piccoli imprenditori che arrivano a vendere il loro patrimonio alla loro casa pur di non chiudere le aziende e salvare i posti di lavoro e non lasciare casa impiegate e operai che spesso sono la loro famiglia ma penso anche a impiegate e operai artigiani che reggono il peso della crisi che lavorano più di ieri guadagnando di meno penso anche a tanti servitori dello Stato che continuano a fare il loro dovere penso ad esempio ai militari in missione di pace all'estero che sono considerati i migliori del mondo ma non perché abbiano armi più potenti anzi ma perché sono portatori di dialogo di rispetto i soldati italiani non bruciano il Corano o non profanano il corpo di nemici uccisi perché sono portatori di quella grande cultura cristiana e umanista che poi è il grande contributo che l'Italia ha dato e continuerà a dare al mondo io credo che i 150 anni siano stati un successo perché noi italiani ci siamo resi conto che in fondo siamo più legati all'Italia di quello che amiamo riconoscere per lo Stato ci vorranno altri 150 anni anche perché lo Stato molto spesso si comporta in modo tale da confermare tutti i pregiudizi negativi che abbiamo nei suoi confronti ma il senso della patria ce l'abbiamo il tricolore una volta era considerato un simbolo di parte quasi d'estrema destra oggi il tricolore è un simbolo in cui la grande maggioranza degli italiani indipendentemente dalla loro fede politica si riconosce l'inno di Mameli se andate a rivedervi la partita di calcio più famosa di tutti i tempi Italia-Germania 4-3 vedrete che i calciatori non cantano l'inno e il telecronista non sta zitto continua a dare le formazioni e non è certo colpa di Gigi Riva che tutti ricordiamo con affetto anche perché è nato non distante da qui o di Nando Martellini era lo spirito del tempo l'inno non era considerato una cosa importante e adesso lo è se abbiamo imparato che amiamo l'Italia anche perché il legame giusto bello sacrosanto che ognuno di noi ha per la sua piccola patria per il comune il campanile il dialetto il territorio non è incompatibile con il legame che ci unisce alla patria comune l'Italia imparato che abbiamo chiamiamo l'Italia dobbiamo imparare un po' a crederci nell'Italia e in noi stessi per questo io chiudo il libro con una proposta troppo spesso si sente dire questo paese come se l'Italia fosse altro rispetto a noi come se potessimo chiamarci fuori ma non è così io penso invece che l'Italia vada migliorata sicuramente va migliorata l'Italia oggi io non credo la retorica del bel paese l'Italia della mafia delle caste della corruzione fa schifo ma è l'unica Italia che abbiamo non possiamo buttarla via o chiamarci fuori possiamo migliorarla un poco alla volta per questo mi piacerebbe che i nostri ragazzi non dicessero questo paese ma dicessero dicessimo semmai il nostro paese vi ringrazio in effetti nel libro lui si è proprio preso la briga con grande cura grande pazienza ci sono pagine 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 di oggetti momenti che chi ha più o meno vissuto questi anni legge con piacere che poi si ritrova nella memoria ad esempio mi ero completamente dimenticato di Nino La Rocca ad esempio il pseudo pugile che veniva ammillantato come il nuovo Tyson anzi il pre Tyson che invece poi era un bluff totale senti questa tesi come dire è stata illustrata in maniera molto chiara c'è anche un'altra scuola di pensiero e vuol chiederti cosa ne pensi che dice invece che come dire il piangersi addosso non è una cosa come dire strutturata a questo momento ma invece è come dire un po' un filo conduttore della cultura sostanzialmente catto comunista cioè la struttura nostra è quella che ci fa piangere addosso la cultura anglosassone è quella che combatte e poi dice o vinco o perdo e quando vinco vinco e prendo e quando perdo perdo e mi tolgo dei piedi questo invece è il paese in cui alla fine ci si mette tutti d'accordo vinco ma non tutto perdo ma mi tengo una quota di potere che è un po' la struttura classica della nostra cultura italiana mi viene sempre in mente lo ripeto sempre ma l'ho già detto ma mi piace ricordarlo che è un personaggio discutibile discusso come la Thatcher che però è oggettivamente un gigante degli ultimi 30 anni diceva non esiste la collettività esiste l'individuo e nessuno oggi si ricorderebbe del buon samaritano se il buon samaritano avesse avuto soltanto buoni sentimenti il buon samaritano aveva i soldi e grazie ai soldi faceva il buon samaritano questa qua è una cultura ripeto che è veramente stridente rispetto alla nostra allora il piangere se addosso è una cosa più più strutturata in mille anni di storia dell'Italia qui c'è una linea rossa che va come dire Guicciardini Longanesi Flaiano Alberto Sordi oppure tu vedi che sia proprio una cosa specifica come sostiene il libro di questi anni e invece gli italiani sono fatti in una pasta diversa quelli come dire ma guarda ti dico la verità io non ne farei una questione ideologica nel senso che allora non c'è dubbio che è stato anche uscito un libro che si chiama così Ci vorrebbe una Thatcher cioè un po' di Thatcher cioè un po' di liberalismo vero farebbe molto bene l'Italia è chiaro che c'è uno Stato che pesa troppo che fa cerca di fare molte cose e le fa tutte male sarebbe meglio uno Stato che fa poche cose e le fa bene ma questo è persino un'ovvietà in Italia noi siamo 60 milioni di persone ci sono 23 milioni di persone che lavorano e sono poche troppo poche ma di questi 23 milioni di posti di lavoro quanti sono quelli veramente produttivi e quanti sono invece quelli che sono a cavalcioni di coloro che lavorano che producono e che in qualche modo traggono la linfa e il denaro dal loro lavoro la burocrafia ad esempio alimenta se stessa ma sono cose che non c'è caso che vengono a dirvi lo sapete già da soli il sistema di controlli il sistema di autorizzazioni è qualcosa che si autogiustifica si autoalimenta per cui in realtà di questi 23 milioni di posti di lavoro che sono in Italia soltanto adesso non so dire se la metà però comunque non tutti sicuramente sono lavori produttivi alcuni sono lavori improduttivi altri addirittura sarebbe meglio che non ci fossero perché gravano e rendono più difficile la corsa di coloro che devono tirare il carro questo è sicuro non mi pare però sinceramente che quando il centro-destra è stato al potere abbia liberato delle energie o abbia liberalizzato sì forse perché siamo un paese conservatore siamo un paese in cui ci sono molte corporazioni che frenano la libertà lo sviluppo la libertà di imprese siamo molto indietro nella classifica di libertà di imprese se tu mi chiedi se questo pianisteo c'è sempre stato se fa parte del carattere nazionale degli italiani o se invece è qualcosa di recente ma guarda io ho cercato di raccontare un po' il carattere nazionale degli italiani con gli ultimi libri il primo era il 2007 era un viaggio in Italia che si chiamava Outlet Italia Outlet mi pareva un po' una delle parole chiavi dell'Italia di oggi che indica non soltanto i centri commerciali che stanno sostituendo la piazza il paese come luogo di incontro ma è una metafora Outlet è una metafora della svendita della mercificazione dei valori del degrado dei rapporti umani di questa maledizione per cui sembra quasi che la cortesia sia diventata un sinonimo di debolezza la gente quasi non si saluta per strada si parla di meno si sta meno insieme e questo è un grave limite perché la bellezza dei nostri centri storici che non sono mai stati così belli sono restaurati il centro di Como è meraviglioso il bello però sarebbe vederli più pieni più pieni di gente con i negozi aperti con una vita sociale che è sempre stata la nostra bellezza nelle nostre piazze i nostri padri si sono amati combattuti i repacificati per secoli perdere tutto questo sarebbe un grave depauperamento per l'Italia mi ricordo che quando il libro uscì lo mandai a leggere a Gian Paolo Pansa il quale mi dice guarda il libro è molto bello ma secondo me in libreria non lo vedrà nessuno perché lo metteranno vicino alle guide hai sbagliato il titolo lo metteranno vicino alle guide ai centri commerciali io dico no ma Gian Paolo tu sei vecchio out la parola chiave vedrai poi sono sceso in libreria e ho visto che l'avevano messo vicino alle guide ai centri commerciali il libro successivo si chiamava l'Italia dei Noantri Noantri è un'altra parola chiave io l'ho detto il romanesco perché il gergo romanesco tra i cesaroni e la RAI la politica il Vaticano diventa sempre più invadente non c'è cinema in cui non si parla non c'è film era in piemontese noi auti o in siciliano noi auce Noantri siamo noi la fazione la corporazione il familismo il particolare come lo chiamava Guicciardini che prevale sul generale l'interesse privato che prevale sull'interesse pubblico ero a Verona a Verona si dice a me che mi viene in Sicilia si dice per mia cucce ma il concetto è esattamente lo stesso io cosa ci guadagno e questo è qualcosa che ci rende molto simili gli uni agli altri nello stesso tempo però non bisogna pensare che gli italiani non siano capaci di virtù civile per questo ho scritto viva l'Italia in difesa del risorgimento e della resistenza che secondo me non sono valori di parte non dovrebbero appartenere a una fazione non dovrebbero appartenere alla nazione la resistenza ha avuto delle pagine nere e vanno raccontate anche quelle non bisogna averne paura bisogna raccontare tutto però è anche giusto secondo me riconoscere che ci sono stati degli italiani e delle italiane tantissime donne sia nel risorgimento che nella resistenza per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita e le cui ultime parole furono viva l'Italia io penso che i nostri padri abbessero una capacità di sacrificio assolutamente straordinaria non penso per rispondere a tua domanda che fossero dediti al pianisteo se tu pensi cosa è stata la prima guerra mondiale di cui tra poco sono i cent'anni i patimenti terribili insomma gli anni insomma cosa vuole dire lavorare in una fonderia in un'acceieria in un reparto di verniciatura in posti che adesso sono aule commerciali o aule universitarie o centri commerciali o showroom noi non abbiamo una minima idea di quali patimenti hanno subito i nostri padri i nostri nonni per ricostruire un paese distrutto distrutto materialmente e distrutto moralmente quindi no io mi sento di risponderti che il pianisteo non è una cosa connaturata al carattere italiano diciamo così noi italiani siamo abituati a dare il meglio di noi stessi nelle difficoltà e siccome questo è un momento molto difficile è il momento di dare il meglio di noi stessi rimango sul tema anni 80 dicevi giustamente il momento della svolta della crescita forse appunto l'unico l'ultimo momento in cui c'era la concezione la coscienza che si andava sempre verso il segno più però rimanendo che siamo in Italia se tu pensi appunto insomma gli anni 80 sono stati segnati da Reagan appunto sempre dalla Thatcher in Italia sostanzialmente da Craxi da quell'epoca storica appunto segnata dal periodo socialista eccetera mentre forse è stato un liberismo molto aggressivo con prezzi da pagare terrificanti pensiamo appunto all'inglese del post della chiusura delle miniere e della revisione industriale appunto con costi sociali fortissimi in Italia è rimasto a mio avviso un liberismo di costume o di facciata perché mai come negli anni 80 il ruolo dello Stato si è espanso quindi il contrario di quello che veniva come dire magnificato ma questo si vede secondo me anche nelle arti perché una spaccatura e una cesura così drammatica come in Inghilterra ha creato ad esempio il livello cinematografico ha creato Ken Lodge piacere o non piacere ma è un regista di grande talento di fortissima contestazione radicale è veramente un regista comunista in Italia la crisi del 1980 ha creato Nanni Moretti di cui si può pensare bene o male ma non è il punto se voi pensate a Ken Lodge e a Nanni Moretti sono due critiche agli anni 80 che però producono film completamente diversi uno di fortissima aggressione al liberismo l'altro di stato geniale di come dire autoanalisi del trotskista che lavora il catastro che guarda i birignao i tic della sinistra che poi non vince mai perde sempre faccio mi si nota di più se non vengo se vengo mi metto in disparte la famosa battuta poi di Dino Risi quando vedevo il film di Nanni Moretti senti spostati un po' che non vedo il film perché c'era Michela Picella che era sempre in mezzo davanti alla telecamera quindi anche qua liberismo terribile di cui si è parlato che sia stato in Italia negli anni 80 alla fine non è vero è stata una roba di costume grande crescita mi danno da bere modi di vestire nuovi videogiochi però strutturalmente non c'è stata nessuna riforma aggressiva come dire liberista quindi non siamo sempre su quel tema lì che poi alla fine passano gli anni ma poi la conduzione della mano pubblica è sempre sulla stesso canovaccio di tasse spesa stato niente mercato hai ragione Craxi è considerato a sinistra come un uomo di destra ma tutto questo succedeva perché Craxi era anticomunista e si opponeva al PC ma in realtà non era fatto un liberista anzi sono gli anni della grande espansione del debito pubblico anche se secondo me questo succede più con l'ultimo governo Andreotti che non con Craxi i fini anni 80 i primi anni 90 De Goria De Mita e Andreotti questi cinque anni in cui il mondo succede di tutto crolla il muro di Berlino finisce l'apartaglio dicevamo ma in Italia avevamo ancora Andreotti e no questo sicuramente è vero l'Italia il liberismo non lo ha mai non lo ha mai conosciuto gli anni 80 sono stati però anni in cui dopo gli anni 70 in cui la sinistra aveva ancora un'egemonia culturale in cui c'era la politica di strada di piazza sono gli anni 80 sono gli anni in cui del declino del PC e anche del declino di questa politica di strada di piazza sono gli anni della ritirata nel privato nel riflusso domani esce su Corriere un'intervista ad Antonio Ricci il quale dice il drive-in non era colpo grosso era una trasmissione che faceva il verso agli anni 80 il paninaro il bocconiano calabrese la modella che cominciava a un certo punto smoccolare in pugliese eccetera non lo so se fosse satira o cosa fatto sta che mi ricordo lo slogan delle prime tv di Berlusconi torna a casa in tutta fretta c'è un biscione che ti aspetta era veramente lo spirito del tempo le ritirate nel privato il riflusso cominciò nel 77 un film la febbre del sabato sera con John Travolta poi nel 78 Grease il tempo delle mele Happy Days che era una serie ambientata nella merca degli anni 50 la merca di Eisenhower una merca pacificata i neri nel ghetto gli italo-americani in officina o a cucinare la pasta e ragazzi bianchi anglosassoni protestanti a giocare a Basquena nel college ma era un'america piccola provinciale ma rasserenante in cui tutto alla fine si aggiustava appunto Happy Days e poi il calcio il calcio è molto importante perché prima col mondiale del 78 in Argentina in cui si scopre che l'Italia può anche giocare bene poi la vittoria del mondiale dell'82 poi nell'83 arrivano in Italia Platini Maradona Vico il campionato di calcio il più bello del mondo poi il Milan degli olandesi il calcio è tutto dentro questo anche Vasco Rossi che è uno che dice di essere di sinistra ma Vasco Rossi siamo solo noi cosa ce ne frega noi è quasi un dannunziano superomista individualista e lo spirito del tempo era quello non c'è dubbio che ci fu anche una stagione di modernizzazione del nostro paese detto questo hai ragione dal punto di vista della cultura economica non è cambiato molto abbiamo continuato ad avere uno stato che continuava ad espandersi non dimentichiamoci che alla fine degli anni 80 Gardini e lo Stato si mettono d'accordo nel fondere l'Enichem l'attività chimica dell'Eni con la Montedison di Gardini creano l'Enimont poi ognuno cerca di fregare l'altro perché lo Stato ha il 40% Gardini ha il 40% il 20% flottante sul mercato viene conteso dai Gardini che se lo accaparra ma alla fine finisce che è lo Stato che prende la parte privata pagando la famosa megatangente la madre tutte le tangenti quindi ancora alla fine degli anni 80 mentre tutto il mondo persino la Francia di Mitterrand privatizza noi nazionalizziamo la chimica che poi farà la fine che è nota che sappiamo alla fine poi la chimica italiana di fatto è rimasta residuale ci sono ancora dei bei gruppi mapei così però siamo quasi usciti dalla chimica siamo usciti dall'informatica siamo quasi usciti dall'automobile e non c'è dubbio che il sistema produttivo italiano soffra e non c'è dubbio che ci sia uno Stato invasivo pesante che costa troppo e che ha bisogno è evidente che da questo punto di vista non si è non si è fatto abbastanza bisogna cambiare a vedere radicalmente l'attestazione sul lavoro e il peso della burocrazia senti stando proprio al tuo discorso c'è quella celebre battuta di Craxi dove appunto dimostrava la sua incompatibilità in comprensione di Berlinguer diceva Berlinguer non ha neanche attività televisione a colori lui è la Malfa che non voleva un attivo a colori poi gli avvenimenti a un certo punto di vista aveva ragione Berlinguer però sul lungo periodo almeno su questo aveva ragione Craxi e lì rifiutavano la modernità cioè come fai a non avere la tv colori se vuoi gestire un grande partito che guarda il futuro no? e quindi quello era un dato ovviamente oggettivo che vale moltissimo a mio avviso quindi arriviamo al punto in cui bisogna parlare di una delle cose centrali per quanto sia un saggio appunto di costume che fa parte della storia dell'Italia che è la questione della sinistra no? si dice che il PC fosse stato un partito serio quando c'erano i segretari piemontesi sardi diciamo sabaudi e poi quando sono stati arrivati i romani è diventato quello che è diventato adesso e anche ora mi ritocca citare Nanni Moretti c'è un passaggio molto interessante di un film pessimo che è Aprile c'è Prodi al governo c'è il fondamento del primo barcone di Albanese era una Pasqua di quegli anni e c'è questa scena dove gli dice qua sono morti cento albanesi e dirigenti della sinistra non c'è nessuno e perché questi qua mi ricordo io quando ero ragazzo quelli della FGC che erano a casa di Happy Days invece stai lì a studiare quindi anche qua c'è tutta una polemica fortissima della formazione della sinistra italiana che scimmiottava come faceva il Troni di fare l'americano l'inglese i Beatles ma poi strutturalmente non riformavi sulla cultura anglosassone leggendo Faulkner o Hemingway guardando Happy Days la critica di Moretti è molto parziale settoriale però non c'è sotto tutta un'impreparazione di base delle nuove generazioni della sinistra italiana rispetto ai Longo e ai Togliatti e ai Berlinguer che poi si vedono in maniera eclatante nella nuova classe dirigente per ora fino a Renzi guarda ti dico io non ho mai creduto al mito del comunismo italiano cioè non ho mai creduto all'idea che appunto un'ideologia criminale fallita in tutto il mondo da Cuba a Vladivostok in Italia fosse giusta o almeno nobile io non ci ho mai creduto a maggior ragione non ci credo adesso però secondo me se tu dai una lettura politica degli ultimi 30 anni rischi di non capire quello che è successo in Italia perché poi negli ultimi 20 anni destra e sinistra si sono alternate al governo e non è che si è cambiato moltissimo cioè noi adesso diciamo il ventegno berlusconiano per comodità ma negli anni 90 è stato il governo quasi sempre centro-sinistra nel 92 c'è il governo Amato nel 93 il governo Ciampi sostenuto dall'esterno dall'allora PDS poi ci sono sei mesi di Berlusconi nel 94 poi c'è il governo Dini il governo del Rivaltone sostenuto dal PDS e dalla Lega poi nel 96 Prodi vince le elezioni poi c'è il governo Abdalema poi di nuovo Amato fino al 2001 quindi negli anni 90 fondamentalmente è la sinistra che governa poi nel 2001 nel primo decennio di questo secolo è stato fondamentalmente il governo Berlusconi con un intervallo di un alto anno e mezzo di Prodi ma l'Italia è cresciuta poco o male negli anni 90 che sono anni tra l'altro di espansione economica in America c'è il boom delle new economy non parliamo delle tigre asiatiche ma anche in Germania e in Francia gli anni 90 sono anni di espansione economica in Italia no non parliamo poi degli anni 2000 si comincia con l'11 settembre è un disastro e poi l'2008 il crollo della Lehman Brothers la crisi finanziaria internazionale eccetera è evidente che noi in questo momento a mio modo di vedere qualsiasi governo che vincerà le prossime qualsiasi forza politica vinca le prossime elezioni ha una strada obbligata davanti noi dobbiamo fare ripartire la crescita cioè fino a quando il PIL sarà negativo o sarà fermo qualsiasi parametro calcolato sul PIL il 3% tenderà sempre a peggiorare cioè la prima cosa da fare è far ripartire la crescita cioè ci vuole un governo che abbia coraggio di affrontare la Merkel e i burocrati europei dicendo l'Italia ha bisogno di fare questo questo e quest'altro ora in questo momento secondo me un governo così non c'è cioè le larghe intese non hanno funzionato questo è il caso di riconoscerlo anzi adesso non sono neanche più larghe intese adesso c'è un governo del PD con qualche transfuga dettato forse non so se dal senso dello Stato o dal senso della poltrona e non so fino a che punto possa reggere questo governo se Renzi porta 3 milioni di persone a votare per lui l'8 dicembre secondo me questo governo rischia seriamente di cadere chi lo tiene in vita è Napolitano che ha avuto dei grandi meriti che non ha fatto nulla per essere rieletto sono certo è stato hanno proprio pregato sono andati tutti quanti persino Maroni a pregarlo di accettare la rielezione però credo che Napolitano commetterebbe un errore a intestervirsi con la formula dell'argentese che palesemente non funziona e non sono neanche più tanto larghe detto questo è incredibile come adesso non voglio attaccare i politici così perché in questo momento il modo più facile è avere applausi e parlare male dei politici il secondo è parlare male dei giornalisti però vedi fino a quando continueremo io non credo affatto che Grillo sia la soluzione ma fino a quando continueremo a avere troppi parlamentari troppo pagati troppo liberi di farsi gli affari propri con la politica e non scelti da noi si sarà sempre carburante nel motore di Grillo senti stiamo sul costume ancora nel libro appena parlato di Drive-In parli anche di quelli della notte con la stagione con la stagione straordinaria di Arbore lo schema com'è allora stiamo sempre parlando di anni Ottanta Arbore sinistra intelligente Masnov Drive-In Cacciarone è di destra o è diverso lo schema o non c'è schema non direi proprio di no perché Drive-In gli autori di Drive-In erano Gino e Michele Staino Vauro Ricci stesso quindi tutta gente di sinistra ma non vedi io penso che perdonami se continuiamo a inserire tutto quanto nelle categorie destra e sinistra non riusciamo secondo me poi a raccapezzarci perché io credo molto di più che i cambiamenti di costume vengano non sono legati alle stagioni politiche sono legati a cambiamenti proprio di umore del paese e anche al fatto che ripeto io sono convinto che si stia meglio adesso il grandissimo dibattito di adesso che è veramente tedioso di cui si dibatte da giorni e giorni ma Zalone è di sinistra è di destra è di Berlusconi è una roba Zalone un po' di destra lo è Brunetta l'ha già messo nel panto insieme agli altri Zalone un po' di destra perché è un dibattito come dire Alberto Sordi non era fatto un uomo di sinistra ad esempio molto cinema italiano è stato sinistra forse anche per opportunismo non lo so comunque vedi l'idea di quello io penso che più che le stagioni della politica cambiano le stagioni degli italiani degli esseri umani del modo di stare insieme ad esempio io mi ricordo parlavi del cinema mi parlo quando ero ragazzo al cinema non si andava come adesso adesso si va pochissimo il cinema purtroppo e si va lo so vedi che il cinema comincia alle 20.10 va lì alle 25 fai l'accordo prendi il biglietto sopra c'è il posto fila E posto 12 al cinema si andava in qualsiasi momento magari pioveva e andavi al cinema il cinema era un luogo di incontro si fumava si appartavano le coppiette e poi arrivavi al cinema magari lo so il cinema era a metà del secondo tempo tu aspettavi la fine rivedevi il film dall'inizio riconoscevi le immagini dicevi la frase chiave era siamo arrivati qui a quel punto nessuno ti cacciava però se ti piaceva alla fine te lo rivedevi da capo non è che arrivava uno questo è il mio posto lei vada via infatti si andava di più al cinema adesso ci sono queste multisala e non ho mai vista una piena e non soltanto ma mi ricordo io sono cresciuto nella provincia piemontese Alba, Dogliani, Saluzzo Borgosesia piccoli paesini in cui c'erano però due o tre cinema in ognuno di questi paesi e nel weekend davano le prime visioni nella metà settimana davano o i film adesso vedo molte signore non vorrei fare gamma a questi film tipo Giovannona Coscia Lunga rivalutate da Veltroni oppure davano i classici di vent'anni prima per cui ho visto al cinema là dove andrebbero visti tutti i film non so il ponte sul fiume Quay con quel bellissimo motivetto la battaglia delle Midway con i generali giapponesi cattivissimi 2001 di serie dello spazio un film straordinario ho fatto vedere il mio figlio 2001 di serie dello spazio sia addormentato ma anche film che sono a noi sembrarono secondo me sono un fuoco di fila di trovate come piccolo grande uomo sai quello con Dustin Hoffman che va con gli indiani poi torna con i bianchi poi torna con gli indiani i miei film sono annoiati perché sono talmente abituati a un ritmo frammentato come quello degli sms di youtube con i filmati che durano un minuto soltanto che due ore di film è un tempo infinito per loro ma persino una partita di calcio che dura 90 minuti dopo un po' si annoiano ecco da questo punto di vista io non li invidio i ragazzi noi giocavamo per strada avevamo sempre le ginocchia sbucciate giocava a nascondino a campana a pallone usando le macchine parcheggiate come porte fino a quando non arrivava il vigile a ritirare il pallone o il proprietario della macchina a protestare in spiaggia sedevi il più leggero sulla spiaggia sulla sabbia lo si tirava per le gambe e col sedere si tracciava la pista delle viglie e poi ogni generazione ha avuto i suoi ciclisti dentro la viglia Viglioli Bitossi Gimondi Ocagna Merckx Gimondi Battaglini Baronchelli Moser Saronni ecco ciclismo lo sport adesso non si fila più nessuno la formula 1 adesso è uscito un film bellissimo Rush che racconta il duello del 76 tra Nicky Lauda e James Hunt però una cosa imperdonabile che nel film non c'è Arturo Merzario che è quello che salva con grande comasco che salva Nicky Lauda dalla macchina in fiamma ecco da questo punto di vista io non invidio i ragazzi di oggi mi fanno un po' pena queste tavolate vedi in pizzeria 20 adulti 3 bambini che non dico giocano tra di loro ma neanche si parla perché ognuno è curvo sull'iPhone sulla Playstation sul Nintendo ecco questo no da questo punto di vista forse eravamo più fortunati noi che giocavamo per strada avevamo sempre i gomiti e le ginocchie sbucciate poi ti chiedo una cosa anche sulle nuove tecnologie parlando della crisi degli anni 90 c'è un passaggio interessante è proprio l'incipit del capitolo dedicato alla crisi e fai appunto tre riferimenti cinematografici dice che gli anni 90 i film più rappresentativi sono appunto Thelma e Louise L'America di Gianni Amedio e Il Toro di Mazzucurati che tra l'altro è un film magnifico e dice che sono film appunto claustrofobici molto negativi i primi due in particolare perché invece nel Toro alla fine poi il Corinto e il Toro poi lo vendono e si portano a casa quindi alla fine i due ce la fanno la Patantuono e l'altro attore ecco la trovi come hai pensato questa chiave di lettura per quegli anni lì? ma perché per me i primi anni 90 sono una grande occasione perduta ripeto crolla il muro e sembra quasi che il mondo debba vivere in pace l'Italia finalmente si libera di una classe dirigente corrotta e invece si fa la moneta unica sembra che l'Europa sia lì a un passo il sogno di generazioni e poi purtroppo le cose non sono andate come speravamo la corruzione c'è ancora e questi vent'anni di politica non hanno cambiato certo in meglio le cose e i primi anni 90 sono anni di crisi io mi ricordo il governo Amato il prelievo sui conti bancari la tempesta valutaria il precariato comincia allora non è vero che i primi precari sono i giovani di adesso io ho dei miei coetanei che sono ancora precari adesso quindi certo in America i garantiti non esistono sono tutti precari in America però appunto tutti da noi c'è un po' una separazione tra i garantiti che non li puoi mandare via neanche più facile divorziare che non separati dal dipendente magari che è il rubo infedele che non lavora e poi invece da una certa fascia in giù sono tutti quanti precari questo in effetti è qualcosa di ingiusto cioè io riconosco volentieri che quando faccio la presentazione dei libri e poi alla fine mi fermo sempre a parlare con il pubblico tra l'altro sono quasi sempre le donne che comprono i libri e mi vengono a dire io ho un ipote in America io ho un figlio a Londra molti vanno a dire in Australia in Canada e mi dico ma perché l'Italia non fa e questo è un enorme problema sono due grandi problemi uno è il fatto che l'ascensore sociale non funziona in Italia fino a non molto tempo fa la vita te la giocavi non dico a tutti quanti alla pari ma potevi cambiare status e condizione sociale Michele Ferrero è figlio di un pasticcere Leonardo Dalvecchio è un Martinit cresciuto in un orfanotrofio Gregotti il grande architetto lavorava come manovale Fulvio Pierangelini un grande chef ha cominciato come lavapiatti adesso questo non succede più si eredita dal padre non soltanto il nome e i beni ma anche lo status e il mestiere e questo non va bene a volte le terze generazioni come nel caso della famiglia italiana si danno a fare si battagliano altre volte invece si riposano e adesso riposarsi non è proprio il tempo l'altra cosa è il fatto di andare all'estero andare all'estero in sé è positivo io sono contento se i nostri figli vanno a imparare l'inglese fanno un'esperienza all'estero perché noi ce la dobbiamo giocare sul mondo globale dobbiamo portare i nostri prodotti in India in Cina dobbiamo competere con i vietnamiti o dobbiamo competere con non parliamo con il resto d'Europa l'importante però è che l'Italia crei le condizioni per cui chi lo desidera possa tornare ed è quello che non succede adesso senti sulle tecnologie essendo tu un saggio di costume hai scritto diversi passaggi sull'introduzione appunto di Facebook e il resto di smartphone per quanto riguarda i nostri ragazzi gli adolescenti a questo proposito volevo chiederti cosa ne pensi perché ho una questione personale da risolvere a mio avviso si parla molto della pericolosità della complessità della gestione dello strumento tecnologia per i ragazzi secondo me gli effetti più devastanti sono sugli adulti e sui 50enni 40-50enni quindi io e vi vedo che ci siete vi diffido vi diffido ufficialmente di mandare i messaggini su il faccino perché è una roba insopportabile cioè mio figlio che è appena una raffrica di 4 e va bene mette sul faccino per gli amici siamo nella struttura mentale del ragazzo io vedo certi colleghi certi stimati affermati professionisti con dei messaggi che c'è da vergognarsi 6 con 6 è un mito ma c'hai 50 anni c'hai 3 figli hai anche un profilo professionale di un qualche rilievo e tu metti i faccini guarda io vedo la gente insospettabile io qualche faccino ogni tanto lo metto e la gente come lui insospettabile che mette il faccino io perché noi dobbiamo un po' istintivamente mi rendo conto che poi fa giovane ma istintivamente scimmiottare il ragazzo usiamo questo strumento formidabile formidabile Twitter Facebook anche per il nostro mestiere ti puoi immaginare assolutamente ho letto una volta un nostro importante collega di livello nazionale non ti dico chi è neanche se mi spari manda un tweet dicendo oggi giornata dura vado a farmi un piatto di pasta ma chi c'è chi se ne dai una notizia ma ma vedi questo è un mostro che fa esplodere il narcisismo della categoria ma un po' di tutti non trovi che sia un pericolo più che per i ragazzi è un rischio molto grave nel senso che adesso parlo della mia categoria sta crescendo una generazione di mostri non sono tutti così ma qualcuno si giornalisti convinti che i confini del mondo coincidano con i confini della loro testa per cui l'opinione la loro opinione è tutto e i fatti non sono nulla non si muovono della loro scrivania sono tutto il giorno su twitter a litigare con Celentano su facebook oppure vanno in televisione dove indossano delle maschere di immediata riconoscibilità chi sta con Berlusconi chi sta contro dottor Balanzone Colombina hanno la gente si fanno pagare per andare in tv ecco io penso che questo sia un modo migliore per insomma come dire non voglio dire disputare insomma per denigrare definitivamente la categoria già adesso il giornalismo i giornali scritti soprattutto rischiano molto perché nella mentalità corrente sono collegati messi nella fascia alta dove c'è la politica dove c'è la rappresentazione dove c'è la finzione mentre la rete è nella fascia bassa dove ci sono le cose come stanno questo schema è falso ma il fatto che sia falso non vuol dire che molta gente non ci crede la rete è uno a di là delle degenerazioni appunto dei messaggini eccetera ma la rete è uno strumento straordinario ma diventa anche un po' una piazza elettronica dove tutti parlano molti gridano qualcuno insulta minaccia offende e nessuno ascolta tutti scrivono nessuno legge e i nostri ragazzi affidano le loro cose più intime anche le loro cose vergognose a youtube come l'aufrago che mette il messaggio nella bottiglia affidandolo alle onde dell'oceano sicuro che lo porti nelle mani di un soccorritore che in realtà non c'è ora io non credo che allora la cosa mi spaventa di questa stagione non è tanto la protesta allora parte il fatto che bisognerebbe avere il coraggio di dire che queste proteste dei notave sono vergognose sono vergognose l'altro giorno hanno bloccato Roma insultano i poliziotti li offendono li provocano io ho provato un forte imbarazzo nel vedere tre minuti di Tg1 dedicati a questa deficiente che aveva baciato la visiera del poliziotto qualche giornale abboccato aveva scritto segno di pace fatto vedere la foto del precedente la ragazza che dava il fiore ai poliziotti nel 68 a Parigi mentre quella era una provocazione Tg1 ha fatto un'intervista di tre minuti a questa ragazza quella quale voleva chiarire che in realtà lui vorrebbe appendere tutti i poliziotti che lei non ne voleva assolutamente fare un gesto di pace e incredibilmente il telegiornale nazionale pagato da Google Canone ha dato una platea di tre minuti senza contraddittorio a questo personaggio questa protesta di notave è allucinante anche perché sono contro il TAV sono contro l'Expo come si fa a essere contro l'Expo? sono contro tutto quello che dà lavoro perché si pretende assistenza il reddito di cittadinanza ma come no? 1000 euro a tutti ma anche 2000 anche 3000 sono palesemente cose impossibili però ecco questa è la cosa che mi preoccupa più che la protesta di piazza mi preoccupa questa idea del uno di noi mettiamo al governo uno di noi ma io non voglio in Parlamento il governo di persone come me voglio persone migliori di me voglio persone che conoscono l'economia che sappiano come tirarci fuori dai guai ecco questa idea che chiunque può fare qualsiasi cosa è sbagliata questo fatto che la rabbia popolare a volte è giustificata sempre legittima ma accende un falò in cui brucia tutto indistintamente le caste e i meritevoli le nomenclature e chi ce l'ha fatta da sé i baroni i figli dei baroni e chi invece meriterebbe di essere considerato in modo diverso non siamo tutti uguali ecco e c'è anche questa idea per cui i giornalisti sono tutti ladri corrotti leccaculo ruffiani non è così ci sono dei giornali che prosperano giornali di estrema sinistra e di estrema destra che prosperano con un linguaggio violento aggressivo sull'idea che sono tutti quanti nel coro tranne noi che siamo i duri e i puri non è così ecco senti stiamo torniamo all'area leggera del costume tu fai alcune riflessioni anche appassionate vedo sul Renato Zero che ti sta molto simpatico e su Vasco Rossi sta meno simpatico cioè che prezzi di meno condivido e poi invece altre pagine interessanti su Fiorello e Giovanotti come tipologia di italiano che ce la fa utilizzando i propri talenti vuoi farci spiegare prima che loro in attesa che loro leggano poi il libro se l'hanno già letto questi quattro profili vedo il signore che sta mandando i messaggini con il faccino facciamo uscire e mette il faccino e esce chi viene sorpreso a mandare i messaggini sarà condannato a una punizione da Girone Dantesco acquistare 20 copie di Vasta Pia esattamente allora Renato Zero a me perché è simpatico perché in effetti nell'Italia molto cattolica e molto comunista di fine anni 70 a volte cattocomunista e non so Renato Zero rappresentò una una specie di bomba lui tra l'altro mi ricordo che quando c'era Renato Zero in tv i miei nonni mi chiedevano ma è un maschio o una femmina e è bello che non lo sapeva neanche lui e questo fu anche un motivo del suo fascino lui per l'altro era figlio di un poliziotto romano di origine marchigiana e abitava in un caseggiato in una borgata romana che si chiama la Montagnola dove abitavano 600 poliziotti 600 famiglie di poliziotti e lui usciva di casa vestito normalmente e nell'androne si vestiva da Renato Zero stivalata strass tutine gialle aderenti e cantava il triangolo no non l'avevo considerato la geometria non è reato cantava mi vendo ecco questo fu in qualche modo ebbe l'effetto di una deflagrazione e stava dentro anche lui questo clima più di leggerezza gris lo stesso Vasco Rossi che mi è meno simpatico perché Vasco Rossi voleva passare per un uomo appunto di sinistra maledetto e così mentre poi in realtà era tutto dentro questo spirito del tempo ecco degli anni 80 l'individualismo eccetera io ad esempio a differenza della Thatcher non penso che la società non esista penso che esista e anzi mi è piaciuto questo video iniziale in cui ho riconosciuto alcuni attori perché questa idea di fare rete non è una un'idea sciocca un'idea molto importante ad esempio la mia generazione proprio perché è cresciuta negli anni 80 negli anni dell'individualismo abbiamo mentre la generazione precedente pensava che i giovani potessero essere felici tutti insieme e che la politica avrebbe cambiato la vita e sono andati incontro a una sconfitta rovinosa la nostra generazione ha pensato che ognuno potesse essere felice soltanto per il proprio conto e anche noi siamo stati sconfitti perché poi rischiamo di essere una generazione saltata che non conta nulla è vero che eletta il nostro coetaneo è presidente del consiglio ma a 47 anni è considerato un giovane emergente mentre questa invece è l'età in cui in tutto il mondo ci si prende le proprie responsabilità non si tratta di fare carriere si tratta di lasciare una traccia il ricambio generazionale non è soltanto un fatto anagrafico non si tratta di mettere un quarantenne a posto di un settantenne si tratta di fare delle cose nuove o di fare in modo diverso le cose di prima per questo serve un progetto servono delle idee serve appunto l'idea di fare rete di fare squadra poi è chiaro che ognuno ha la sua azienda ognuno ha la sua vita privata però alla fine poi la vita ognuno se la gioca con la sua generazione gli amori gli affetti le amicizie di solito te le gioca con la gente della tua età e i quarantenni in questo momento si stanno un po' beccando come i capponi di Renzo non di Renzi di Renzo e l'un contro l'altro armati siccome sarebbe il momento guarda pensa che stavo quasi pensando stavo per mettere nel libro una piccola confidenza visto che siamo a Como mi ero rimasto colpito da una recensione io avevo fatto un libro in cui avevo raccolto le interviste a Cardinale Scola che tra l'altro è di Lecco mai grati dove abito io la provincia non fosse tu allora l'epoca non c'era pubblicò una stroncatura durissima di questo innocente libro che era una raccolta di interviste e riconobbe siccome io sostengo appunto che per la nostra generazione il successo è un fatto strettamente personale e la massima soddisfazione è fregare il vicino di banco io ho letto questa recensione cattivissima nei miei confronti e sotto c'era la firma della mia vicina di banco alla scuola di giornalismo di Milano dico vada qua stavo pensando di mettere un libro a conferma della teoria poi non l'ho fatto perché non volevo sembrare antipatico la critica è un diritto sacrosanto servono sempre più le critiche degli elogi però se ho ricevuto nella mia vita un attacco immotivato gratuito è sempre da una persona della mia età e invece questo libro è anche un po' un grido di richiamo verso la mia generazione in fondo siamo una generazione anche noi possiamo dire noi abbiamo libri film dischi miti personaggi che ci definiscono come generazione Renato Zero viene a presentare il libro il 4 dicembre a Roma con Adriano Panatta un altro personaggio interessante perché Panatta ha insegnato gli italiani a giocare a tennis così come Gustavo Tone ha insegnato gli italiani a sciare mentre Giovanotti e Fiorello raccontano le loro storie perché ad esempio Giovanotti da ragazzo era abbastanza terrificante faceva queste canzoncine sciocche mi ricordo quando un settimanale cuore lanciò le dieci cose per cui vale la pena di vivere vinse la fine di Andreotti dove bisogna ancora aspettare vent'anni e il quarto o quinto era appendere Giovanotti per le palle adesso Giovanotti si è evoluto ha cambiato è ancora 30 anni che fa musica e ancora non riesce a comunicare anche con i ragazzi di oggi questo è un segno di longevità ha un Giovanotti un altro del 66 mentre Fiorello io me lo ricordo con il codone a fare il karaoke perché poi negli anni di Tangentopoli le piazze italiane si riempivano per il karaoke di Fiorello poi ha avuto i suoi problemi di droga che ha avuto coraggio anche di raccontare e Fiorello è interessante perché non è mai dove tu pensi che sia tu pensi che sia in tv lui va alla radio pensi che sia la radio si inventa l'edicola online adesso torna in radio insomma è un personaggio prevedibile che io trovo molto interessante senti intanto ecco se e poi scusate e non è un figlio di papà cioè non è ci sono troppe dinastie nello spettacolo no l'Ivanzina il Dapporto i De Sica i Tognazzi Asman Asman no Fiorello è figlio di una guardia di finanza e fu assunto al Valtour di Augusto in Sicilia come lavapiatti ed è diventato Fiorello se volete preparare qualche domanda così poi potete rivolgere naturalmente al nostro ospite ci sono parecchie pagine dedicate allo sport nel libro ne hai già accennato prima come lo sport attraversi come appunto un filo rosso la storia del costume degli ultimi 30 anni a questo proposito mi ricordo tu dicevi il tuo primo ricordo da bambino legato a Monaco non vi interessa ma vi dico lo stesso perché ho l'occasione invece il mio primo ricordo da bambino è sportivo ed è la finale di Coppa dei Campioni del 31 maggio del 72 io avevo 7 anni Inter-Ajax 2-0 doppietta di Cruyff l'Inter non ha mai passato a metà campo ha fatto una volta a Boninsegna ha fatto un patetico tiro vicino al palo a 2-3 metri e mi ricordo la scena solitare mio papà sicuramente era a vederla al bar naturalmente io da solo in pigiama in un bagno di sudore e da lì nella prima partita ho capito il destino del tifoso della squadra più pazza e femminile indimenticabile del mondo leggermente interissimo ci sono altre squadre non ci sono altre squadre a Como com'è l'Inter ma poi il Como è stato in Serie A adesso come dire si difende in C1 ma non è io sono di Lecco Lecco è in Serie D e quindi facciamo quello che possiamo quindi è vero che i ricordi proprio infantili sono un po' veramente prustiani freudiani che poi ti rimangono impresso sono spesso legati allo sport e ripeto tu più volte tratteggi il significato dello sport nella vita prima dell'adolescente poi del giovane anche in queste pagine ma ci vuoi ricordare ancora qualche passaggio intanto mi ricordo che l'anno dopo in finale di Coppa dei Campioni arrivò la Juventus è perso io da ragazzo ero molto juventino poi ne sono uscito bravo nel senso che ecco ti fare per la Juventus sono ancora juventino adesso però a me oggi non piaceva confesso c'è tutto un filone di Juventini che sono negazionisti gli dicono che Mogi non il 98% beh io entro in quel 2% ad esempio tu puoi anche non dare il rigore su Ronaldo però non puoi dare il rigore del Piero sull'azione successiva adesso c'è qualcosa che non va ma adesso non vorrei siamo partiti da un nuovo modello di sviluppo adesso siamo a rigore no mi ricordo che l'anno dopo in finale contro l'Ajax arrivò la Juventus e non passò la metà campo neanche la Juventus segnò rap di testa e poi per il resto fu lì gli Juventini furono passerotti che beccano la roccia come diceva Gianni Brea vogliamo magari sentire se ci sono dei vostri interventi così poi qualche domanda che poi dopo deve avere un altro appuntamento in serata se c'è qualcuno che vuole intervenire volentieri naturalmente non siete timidi rompete il eccola ecco buonasera prima di tutto un brevissimo complimento al promo delle giovani industriali e ce ne fosse di gioventù così anche se voi siete già una gioventù un po' avanzata e anche se forse siete stati facilitati in alcuni casi ad essere quel tipo di gioventù però volevo solamente intervenire su quanto ha detto Cazzullo intanto anagraficamente vi dico subito che potrei forse essere padre di Cazzullo e di Binonzio tanto per capire sono di una generazione ben prima e volevo dire questo è partito lei è partito con direcciamo un messaggio di fiducia non piangiamoci addosso tutto sommato molto direi positivo verso il nostro prossimo futuro io purtroppo e poi questo messaggio con cui è partito nel suo eloquio notevole successivo anche forse un po' troppo veloce ma il tempo stringe e quindi sarò anche breve io mi è sembrato in tanti punti leggermente contraddire quale è stata la sua tesi di partenza ma a parte questo voglio appunto dire perché io mi sento leggermente in antitesi alla sua analisi e questo non dico nulla di nuovo ma noi abbiamo tre grossi problemi la famiglia la scuola e mettiamoci anche la chiesa che forse dei tre è la meno colpevole perché ha crisi vocazionali notevoli e speriamo che Papa Bergoglio riesca a fare qualcosa per sistemare tutto quel settore che ha anche gravi pecche ma io chiamo anche la chiesa perché è sempre stata un supporto all'educazione della gioventù ma se noi analizziamo la famiglia oggi la famiglia nella gran maggioranza è scassata è scassata da problemi appunto educazionali già anche ricevuti dalla famiglia dai genitori che hanno dei familiari di questa famiglia tipo più o meno di un'età anche inferiore alla vostra dei due giornalisti quindi la famiglia è scassata la scuola eppure scassata e c'è una maggioranza di professori precari quindi noi andiamo oggigiorno con qualche ovviamente sono precari il primo scopo che hanno è cercare di non passare a pigliare punti saltar lì per riuscire a pigliare questa agoniata cattedra che poi ogni tanto si legge sui vostri giornali che c'è qualcuno che il giorno prima della pensione la riesce a raggiungere magari quindi cose veramente folle ma ad ogni modo punto è quindi abbiamo una famiglia e una scuola che sono scassate la chiesa che non riesce a fare un lavoro di supporto anche per via di qualche scandalo anche per via eccetera eccetera di costruzione di questa gioventù e allora ci chiediamo come si fa a essere ottimisti quando si vedono in giro nelle città anche come basta andare al sabato pomeriggio delle mandri di giovani che vanno dalle scuole medie e inferiori fino all'università per quella maggioranza che non va all'università effettivamente per studiare e per imparare e per ottenere delle posizioni e vagare così con una maleducazione che non c'è nemmeno il passaggio sotto i portici per il pubblico indistinto e come si fa grazie come si fa vogliamo raccogliere magari l'intervento così poi chiudo qualche intervento veloce che poi deve scappare iniziamo a rispondere a questo va bene dunque no la ringrazio tanto per la no in realtà dovremmo riaprire come ricominciare da capo perché lei ha posto tre questioni molto importanti la famiglia la scuola e la chiesa vede quando dico che l'Italia negli anni 70 60 70 era un paese più semplice mi riferisco anche a questo ad esempio le famiglie erano sicuramente più unite discussioni sull'esistenza di Dio in casa io non ricordo cioè si dava per scontato che Dio ci fosse così come il sole sorge e tramonta si andava più in chiesa la domenica le messe erano la messe della domenica c'era tutto tutto il paese tutto il quartiere il prete era una figura sociale importante rispettata anche l'insegnante era una figura sociale importante e rispettata però ad esempio guarda la chiesa è chiaro che la chiesa ha delle capacità di reazione che sono straordinarie a febbraio eravamo qua tutti che recitavamo il De Profundis della chiesa cattolica nel giro di pochi giorni c'è stata una rivoluzione tale che magari la politica italiana fosse capace di regenerarsi allo stesso modo ma io non escludo che comunque sia pure cambiato il moltissimo che c'è da cambiare anche in politica siamo alla visilia di un forte cambiamento delle varie questioni che lei ha posto vorrei concentrare per questo mio ultimo intervento su questa questa diarchia tra ottimismo e fiducia lei disse lei forse è troppo ottimista e quello che ha detto contraddice in parte il suo ottimismo iniziale io non credo di essere ottimista perché l'ottimismo è un'attitudine è un sentimento uno spera che le cose vadano bene io penso di essere fiducioso cioè la fiducia si basa su dati di fatto e io girando l'Italia ho trovato tanti dati di fatto che mi inducono a essere fiducioso sul nostro avvenire non dico che la cosa sia automatica cioè io segnalo un'opportunità non una conquista un approdo cioè dico non dico ce l'abbiamo fatta ce la possiamo fare guardi il libro precedente che è uscito un anno fa si chiamava l'Italia seridesta non è andato bene come questo qui siamo già 60.000 copie quinta edizione stando benissimo l'altro è andato un po' meno bene 30.000 copie non poche però vendute però era troppo forse controtendenza dice come si ridesta l'Italia non è mai stata così depressa di cattivo umore questo lo concedo però resto convinto da una parte che l'Italia abbia grande potenzialità di sviluppo dall'altra parte che ci sia un'Italia che non si arrende alla crisi che resiste e che prepara le condizioni per ripartire ebbene quando il libro è uscito un anno fa l'Italia seridesta dopo pochi giorni sono partito per andare in America per andare a raccontare per i Corriere della Sera la rielezione di Obama e in aereo non si riesce mai a dormire bene e non so se succede anche a voi quando uno sta nel dormiveglia ti vengono in mente un rimorso per una cosa che hai fatto o un rimpianto per una cosa che non hai fatto o magari i dubbi a me veniva il dubbio di aver sbagliato titolo e soprattutto di aver sbagliato interpretare lo spirito e l'avvenire del mio paese l'aereo c'è quello di andare più piano perché no in realtà probabilmente è vero è troppo veloce ma che dico sempre le stesse cose per questo va in automatico dunque allora l'aereo riteriamo in Florida la Florida era uno degli stati in bilico ricordate tra Romney e Obama l'aereo terra Miami prima sera dico voglio andare voglio mangiare americano e vado a Miami Beach Ocean Drive una delle vie più famose d'America da una parte c'è l'oceano dall'altra parte queste case Art Deco anni 30 e vado a cercare un ristorante dove secondo la mia guida dal 1929 facevano hamburger e hot dog arrivo e vedo che il ristorante è chiuso e al suo posto c'è un'insegna pizzeria fratelli la bufala penso a un errore comincio a camminare lungo Ocean Drive la via più famosa d'America da una parte l'oceano dall'altra le case Art Deco e vedo caffè Roma caffè Milano caffè Bologna caffè Bellini caffè Dolce Vita cinque locali italiani di fila aperti non da italiani da americani che sanno che l'Italia è di moda se vuoi avere successo con un ristorante devi avere in carta il risotto al tiramisù così come negli Starbucks in questi caffè di catena che sono uguali dappertutto a New York dove ce ne sono tantissimi o a New Delhi o a Pechino il caffè il menù è scritto in italiano il caffè è ristretto macchiato cappuccino ma non è caffè italiano non sono prodotti capitali e lavori italiani sono prodotti che suonano italiani ma non lo sono è vero che New York o Miami non sono però l'America profonda però dopo sono andato in Virginia un altro stato in bilico atterro a Richmond la capitale e vedo che la sera c'è un comizio del vecchio Bill Clinton a Roanoke un paesino che non conoscevo mi dico sempre Virginia sarà qua dietro quando leggo una macchina comincio a guidare da Richmond a Roanoke ci sono sette ore di macchina arrivo in questa palestra dove sta parlando Clinton e dopo un po' vedo che questi capi del partito democratico locale vanno a cena io mi sono aggregato a loro e mi hanno portato in una specie di saloon noi diremmo una taverna un'osteria e il tizio è seduto vicino a me un tizio particolarmente malianarnese mi chiede ma tu da dove vieni io rispondo Italia pensando che questo neanche sappia dove sia l'Italia invece questo si illumina e dice ah ma allora tu conosci Verona sì perché ah perché noi qua abbiamo una compagnia di teatro amatoriale mettiamo in scena Shakespeare e quindi per noi i due gentiluomini di Verona Giulietta e Romeo Verona è un mito e mi fa vedere che sul display del cellulare dove noi abbiamo le foto dei figli o dei nipoti o del gatto lui ha la foto dell'arena di Verona al che al tavolo vicino si alza un americano di origine asiatica un cinese che dice invece io amo molto la musica napoletana posso cantare per lei torna su rientro come fai a dire di no quest'uomo aspettava da vent'anni che arrivasse un italiano a Roanoke Virginia per potergli cantare torna su rientro la cantata è benissimo e mentre cantava io pensavo che in fondo noi al nord siamo abituati a pensare i napoletani sempre felicemente innamorati ma le canzoni d'amore napoletane sono tristissime Pierre che si è ricostruito Comasco che si è rifatto la vita a Positano lo sa il napoletano non chiede su donna amata una notte di passione chiede una notte di tregua di quiete di riposo fammi dormì fammi campà non me la sa non darmi sto dormiente ho detto questa cosa a Napoli se non posso accadere lei lasci stare il napoletano insomma quelle parole la gente non capiva le parole ma in realtà quella canzone la capivano tutti in quel locale e lì in quel saluno della Virginia mi sono reso conto che non avevo sbagliato il titolo del libro che l'Italia è veramente un paese straordinario e guardate che all'estero non è che gli stiamo così simpatici è vero che magari ridono di noi della politica ma l'Italia non è mai stata importante per la politica o per l'esercito l'Italia è importante per altre cose ad esempio io in tre olimpiadi e tre mondiali di calcio che ho seguito per il Corriere della Sera non ho mai visto uno stadio o un palasport tifare per una squadra o per un atleta italiano ho sempre visto tifare contro ma perché? perché hanno paura di noi perché ci prendono molto sul serio perché ci ammirano e qualche volta ci invidiano perché sanno che la nostra arte di arrangiarci può degenerare in furbizia ma può evolversi nella capacità di risolvere i problemi che è la vera misura dell'intelligenza noi molto spesso perché dico che l'Italia non è all'altezza di se stessa perché non sfruttiamo delle occasioni clamorose pensate che la Puglia da sola la Calabria da sola la Sicilia da sola e la Sardegna da sola hanno più coste mediterranee della Francia ma non solo non c'è la costa azzurra ma pensate le Balearie hanno lo stesso perimetro di coste della Sicilia e hanno 11 volte di più il numero di turisti della Sicilia eppure cosa c'è di più bello al mondo della Sicilia mosaici bizantine che neanche a Bisanzio templi greci che neanche in Grecia vulcani attivi a strapiombo su spiagge caraibiche e su mari caldi da Pasqua a Natale la classe politica siciliana è riuscita a fare fallire tutto questo non era facile c'è riuscita io mi sono vergognato nel vedere a 200 metri dal palazzo della regione siciliana dove i consiglieri regionali si chiamano null'altro pomposamente onorevole e guadagnano il doppio di Obama al triplo della Merkel vedere a 200 metri di lì ancora le macerie dei bombardamenti del 43 però anche al sud io vedo segni di risveglio in Sicilia c'è una classe di imprenditori guidate da Ivan Lobello che rifiuta di pagare il pizzo pensate a come i ragazzi di Brindisi hanno reagito alla morte di Melissa Bassi ricordate maggio 2012 poi si è capito che non era una bomba di mafia ma intanto un'intera generazione si è ribellata anche in Calabria persino a Napoli cominciano a dire di no la Puglia ad esempio una volta essere pugliesi non era di moda Modugno passava per siciliano Arbor passa per napoletano adesso prima parlare di Checco Zalone i giovani artisti pugliesi portano la Puglia del nome Checco Zalone Inegramaro Caparezza la Puglia si riprende la sua identità il vino la notte della Taranta il turismo Bollywood la più grande industria cinematografica del mondo e ha cominciato a girare dei film in Europa e prima sono venuti a girare in Svizzera e i turisti indiani sono venuti in Svizzera dove sono stati accolti con il calore che potete immaginare poi Bollywood è venuto a girare in Puglia dove c'è una film commission molto attiva hanno girato tre film indiani tra il Salento e il Gargano i turisti indiani sono venuti in Puglia dove il sole il mare il calore sono trovati benissimo a cacciare eccetera già l'anno scorso 200.000 turisti indiani in Puglia già adesso più turisti indiani in Italia che italiani in India tra dieci anni arriveranno frotte cinesi indiani brasiliani e noi abbiamo una concezione un po' riduttiva del turismo noi pensiamo che il turismo voglia dire camerieri e cuochi meno male ci sono questi posti di lavoro e mi piacerebbe vederli più spesso fatti dai giovani italiani ma il turismo non ha bisogno solo di alberghi e ristoranti il turismo ha bisogno di infrastrutture di aeroporti di strade il turismo vuol dire mettere in sicurezza il territorio non è possibile che ogni pioggia venga giù tutto vuol dire restaurare e valorizzare i monumenti vuol dire fare funzionare l'industria dello spettacolo abbiamo artisti brevissimi poi non li facciamo lavorare il turismo ha bisogno di bancari di architetti di ingegneri di interpreti è un mondo il turismo pensate cosa farebbero in Danimarca o in Germania o in Svezia se avessero il teatro greco di Taormina io mi sono trovato a Taormina l'estate scorsa ad agosto nel cuore della stagione estiva sapete cosa c'era il teatro greco di Taormina niente non c'era una commedia non c'era una tragedia c'era un concerto che è stato annullato il giorno prima ecco ma non vorrebbe sembrare una critica ma io prima ho fatto un giro per Como il centro storico di Como non è bello è bellissimo è stupendo a parte il fatto sono entrato lì a San Fedele a un momento mi ammazzo perché sono i tre gradini sotto e sono precipitato nel vuoto poi c'era sacra statico scusi ma non si fa mai male a nessuno dice no perché tanto qua in chiesa vengono solo le stesse vecchiette e sanno che ci sono i gradini speriamo che venga anche qualche turista cioè il Duomo di Como è una delle cose più belle del mondo non c'è bisogno che lo venga a dire io però i maestri Comacini tutte queste sculture non è così conosciuto come meriterebbe sì io sono venuto in gita sui luoghi manzoniani così però secondo me si potrebbe fare di più in tante città italiane per valorizzare di più la bellezza l'arte la cultura il cibo il vino c'è una grande domanda di queste cose nel mondo e vedete esempio e concludo qualche giorno fa ho letto su un giornale un articolo forse proprio sul mio giornale in cui si diceva che l'inventore del global style dello stile globale era l'architetto americano Frank Lloyd Wright il primo a disegnare non soltanto i palazzi ma anche i mobili o le maniglie delle porte dico ma poi c'è qualcosa che non va pensato l'inventore del global style non è il grande architetto Frank Lloyd Wright è Giotto perché se voi andate a Firenze e vedete il campanile di Giotto il campanile di Giotto è un'opera di architettura ma è anche un'opera di pittura perché è dipinto è anche di scultura perché è scolpito e se voi vedete i quadri con le madonne di Giotto la madonna di Giotto è seduta su un trono che ha le braccioli fatti come il campanile c'erano anche i mobili gotici l'Italia è il posto in cui si è pensato lo stile il gusto la moda il modo di raffigurare il mondo di pensarlo che poi è stato copiato dappertutto se voi andate a Monaco di Baviera c'è la loggia dell'Orcagna c'è Palazzo Pitti rifatto talquale in Italia è nato il gotico la pittura gotica il rinascimento il barocco il rococò il neoclassicismo sino al futurismo l'Italia può tornare a essere il software del mondo il posto in cui nascono prima appunto i gusti le mode gli stili le tendenze in questo senso vorrei che i nostri figli non perdessero fiducia nell'avvenire non vorrei che pensassero appunto che sono nati in un paese sbagliato vorrei che fossero consapevoli che sono nati in un paese straordinario e avessero fiducia nel futuro e quindi in loro stessi perché il futuro non dipende soltanto dallo spread o dai cinesi o dalle multinazionali il futuro dipende anche se non soprattutto da noi e secondo me possiamo ancora toglierci come italiani grandissime soddisfazioni vi ringrazio molto grazie mille quindi basta piangere leggete il libro e leggete la provincia come sempre buona serata a tutti grazie 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 a tutti